Gentili amici del pianeta Occhio di Hotelli 196, solo e solamente su Telefidenza e Viola Supersport, canale 196. Grazie a Matteo che mi coodio, va in cabina di regia, l'ultima puntata del 2021. Parleremo anche di Esploi, perché è un quarto posto alla prima competizione internazionale dell'Under 17 neonata azzurra. La notizia ve la diamo in televisione solo noi, parleremo dei campionati di O1-2 e vi lasceremo con il programma già prestabilito dell'inizio del campionato di Serie B, dove ci sarà una seconda squadra. Cominciamo con il giovanissimo, denominato così, Team Azzurre, che approdava le finali del torneo internazionale Under 17 svoltosi in terra di Portogallo. Allora, grazie ovviamente, mi rifaccio ai comunicati stampa della Federazione Italiana Sport Rotellistici, grazie alla vittoria con le portoghesi della Vero, un pareggio contro la selezione francese BBR, Bleu, Blanc, Rouge, e una sconfitta di misura con le campionette uscenti del Matarò, squadra spagnola. La giovanissima neonata rappresentativa italiana Under 17 ha centrato prima la qualificazione alle semifinali del challenger internazionale Rafael Oliveira, che si è disputato all'uso in terra di Portogallo. Poi anche approdava le finaline, piazzandosi da squadra all'esordio, al quarto posto, perdendo a fine partita. Per le Azzurre si tratta di un traguardo davvero importante. La prima volta che l'Italia partecipa a questo torneo, con una vera e propria rappresentativa, negli scorsi anni partecipava una squadra di club. E nonostante i pochi giorni di preparazione a disposizione del CT Massimo Giudice, che ringrazia, cui invio gli auguri e faccio i complimenti per il grande e proficuo lavoro, i risultati sono già incoraggianti. Per il traguardo si faceva ancora più importante perché il giovanissimo Team Italia arrivava alla finalina per il terzo e quarto posto, perdendo, come io ho scritto, con l'altissimo onoro del Ponte di Mazze, le mazze dell'occhio a rotelle, uno messo sull'altra, noi aeronautici venivamo premiati o festeggiavamo nel Ponte di Spade, loro idealmente hanno festeggiato col Ponte di Mazze. Il Team Azzurre ha strappato la qualificazione alla seconda parte del torneo alla squadra francese, grazie alla migliore differenza netta. Dopo il pareggio nello scontro diretto iniziale, nel corso del quale l'Italia non è riuscita a concretizzare una netta superiorità, le azzurrine e i giudici si sono averifatte contro le portoghesi della Veiro battute con un secco 3-0. Nell'ultima partita del girone l'Italia ha stretto i denti e dopo un inizio molto difficile con le catalane avanti 3-0, dopo pochi minuti le azzurre hanno registrato la difesa, viti, bulloni, strette bene, impostando una partita di contenimento riuscendo poi a segnare sul tiro diretto di Rebecca Taccardi, fin qui figli autrice di tutte le reti italiane del torneo. Poi il Team Azzurre giocava la semifinale contro un'altra squadra catalana, il Palau Plegamans, le spagnole che hanno vinto il girone B a punteggio pieno. Si sono frapposte da lì all'Italia e dunque si chiude poi questo bellissimo quarto posto, la prima avventura della giovanissima nazionale femminile, all'uso nella finalina terza e quarto posto del challenge, ricordo, Raffaele Oliveira, il Team Azzurre ha sfiorato una grande impresa nell'ultima partita del torneo, opposte alle padrone di casa della selezione portoghese, le ragazzine di Massimo Giudice sono riuscite a portare le più quotate avversiali, fin pensate ai tempi supplementari. Dopo un inizio complicato, segnato da due gol in rapida successione delle portoghese, l'Italia ha sistemato la difesa, subendo pur a lunghi tratti, e ha iniziato a mettere la testina avanti. Nel finale del primo tempo, Anna Orsato ha trovato lo spiraglio giusto su una ribattuta del portiere, nella ripresa si è ripetuta, riportando in parità le sorti dell'incontro. Grande le parate di Teresa Parlato, la squadra azzurra ha anche provato a vincere, portando il Portogallo al limite dei nove falli e sbagliando una grande occasione negli ultimi secondi di gioco. Nei supplementari però il team portoghese è uscito alla distanza, chiudendo la partita già nel primo parziale, con una doppietta replicata nel secondo tempo, prima che il tiro diretto trasformato da Rebecca Taccadi rendesse il 6-3 finale meno indigesto. Il challenger Raffaello Oliveira è stato vinto dalla squadra del Palau Plegamans, che in finale ha sconfitto 3-0 le spagnole del Matarò, e che è dunque successo che sancisce ancora una volta la superiorità spagnola nel loco femminile. Dunque tutto bello e tutto positivo. Allora, terzo e quarto posto, team azzurre, la squadra giovanile portoghese si chiama Osservare e Validar Futuro, proprio perché si guardano e si valutano nel futuro. Le portoghese hanno vinto 6-3, finale al primo posto. Palau Plegamans, spagnole che battono nel derby il Matarò, 3-0. Va bene, questo è l'inizio della nostra trasmissione. Andiamo a parlare di serie A1. Trissino e Sarzana, uniche vittorie fuori casa. Grosseto e Vercelli vanno a gonfie vele. Il Bassano ha battuto il Forte dei Malmi. Dunque, l'U-Broker Bassano esulta dopo l'esonio di Roberto Crudeli. Una prova molto convincente contro il GDS in piante forte, nonostante l'assenza di bombe l'Ambrosio. Una vittoria per 5-3 con la firma di Mark Coy, autore di una tripletta che fa volare in quarta posizione a pochi punti dalle prime tre della campionata italiana. Doveva essere una vigilia di Natale tranquilla. Invece le due società hanno anticipato la sosta natalizia e hanno compiuto due azioni clamorose nelle ultime ore. Sia Bassano che GDS in pianti forti hanno esonerato i loro allenatori. Erionia della sorte si sono confrontate per vedere chi avesse fatto la scelta migliore nella sfida domenicale. I giallorossi avevano cominciato esonerando martedì Crudeli dopo il pareggio a Correggio, mentre giovedì Versiliesi avevano esonerato Orlandi pur vincitore della Supercoppa italiana. Quest'ultimi hanno già tracciato la strada per la promozione del catalano Mark Gual, il fuoriclasse spagnolo, giocatore della 2 del Forte, dirigente e accompagnatore della stessa squadra di A1. I veneti invece promuovono Luis Nunes, portoghese, già allenatore di A1 e attualmente allenatore della seconda squadra, in attesa di una risposta da parte della squadra di quello che i ragazzi metteranno in pista. Dunque c'era tanta attesa domenica alle ore 18 per vedere quale delle due squadre avesse trovato la dinamica giusta, riparte la squadra di casa che batte il Forte e dunque sono loro che vincendo per 5 a 3 Bassano batte forte. Andiamo a vedere poi la 1 che continua ad essere comandata per la decima settimana consecutiva dal Trissino che pensate va a vincere a Lodi sulla pista dei campioni d'Italia per 6 a 3 e i Maremmani sono invece i favoriti per staccare il secondo biglietto per la Coppa Italia nel turno Casalingo contro Montebello e dunque qui poi si guarderà cosa succederà nelle partite di Coppa Italia. Il Rebus sarà il Westport Valdagno nella difficile trasferta al Palamercurio di Grosseto contro la squadra di Paghi che in casa ha creato fino adesso molti molti problemi e cerca di lottare per il sesto posto. Allora andiamo a vedere quello che è successo è una Serie A 1 che vede imbattuto dunque il Trissino che passa a Lodi 6 a 3 risponde il Galileo Follonica che batte Montebello anche lei per 6 a 3 mantenendo inalterato il gap con la venta riprendono a volare il Grosseto che batte Valdagno 4 a 2 Engas e Vercelli che supera Sandrigo 5 a 3 le due squadre sono rispettivamente quarte e terza la gama Innovation Sarzano vince a Matera mantenendosi in ottava piazza 2-3 successo in trasferta mentre il team Service Carmonza rimonta l'iniziale svantaggio e termina con la vittoria contro il BDL Correggio per 7 a 5 ora è nono a solo due punti dai quarti di finale di Coppa Italia il successo che chiudeva la weekend come ha detto Bassano vince sul Forte dei Marmi 5-2 allora i tabellini con ovviamente attenzione a quelli che sono i tabellini delle nostre Toscane allora Engas e Vercelli Sandrigo 5-3 i due tempi 3-1 e 2-1 Galleria Follonica che batte la chimica Montebello 6-3 2-2 la ripresa dominata da Follonica che schierava Barozzi i due fratelli i due fratelli allora Pagnini Francesco Banini Francesco Montigel Loblet Bonarelli Montauti Bracali Polverini Race allenatore Silva i marcatori Miguelez per Montebello al 13.08 13.40 Nicoletti sempre per Montebello poi Banini Francesco al 13.44 al 20.03 Lobet tiro diretto per il Follonica nella ripresa al 3.13 Lobet 8.35 Pagnini poi sempre Pagnini al 13.17 Bonarelli arrotondava 19.24 chiudeva Miguelez per Montebello 21.45 Lodi sconfitto nella pista di casa e non sarà contento il mio amico di Lodi l'amico ex presidente dell'Odi di tanti anni fa il ora ho un minuto di Angelo il mio amico Angelo chiamiamolo così Angelo che è stato il presidente di Lodi tempo fa con i figli che giocavano tutte e due nelle giovanili ed erano due promesse Lodi Tristino 3-6 2-2 1-4 poi abbiamo Edil Fox e Grosseto Valdagno 4-2 2-1 2-1 due tempi con Grosseto Menichetti Monte Saedra Rodriguez Paghi Franchi Nacevic Cabella Biancucci Sassetti Allonatore Paghi con i gol di Piroli per Valdagno 2-47 Paghi per Grosseto 18-51 Franchi 22-01-21 in vantaggio Grosseto nella ripresa Motaran per il Valdagno 2-46 poi Saedra 4-57 per Grosseto chiudeva Franchi successo per 4-2 poi andiamo a vedere Monza BDL Correggio 7-5 2-3 5-2 poi Matera Gamma Innovation Sarzana 2-3 0-3 2-0 non basta il tentativo di rimonta di Matera nel secondo tempo poi da quasi due anni il Forte non riusciva a vincere con i giallorossi l'ultima vittoria risaliva al 2020 nella scorsa stagione due pareggi tra l'altro spettacolari 3-3 7-7 si incrociava in un momento troppo particolare nelle due come dicevo ad inizio della trasmissione le due squadre cambiavano i due allenatori e alla fine vinceva Bassano che batte il Forte 5-2 2-1 3-1 per cui la classifica generale vede Trissino 30 punti tutti hanno giocato 10 partite Trissino 30 Follonica Galileo 23 Vercelli 21 Bassano 20 Edil Fox Grosseto 19 Versilia Forte Nemarmi 18 Lodi 16 Netto ritardo i campioni d'Italia Sarzana 13 Monza 11 Montebello 9 Valdagno 9 8 per Sandrigo 4 per Correggio chiude Matera 0 punti la classifica dei marcatori le prime tre posizioni Mendez Ortiz Jordi di Lodi 23 Davide Nadini di Monza 16 Francesco Banini di Follonica 16 gol e questo è il nostro consuntivo di quello che era l'ultimo appuntamento dell'anno 2021 andiamo a vedere quello che è successo invece in serie A2 dove era in programma il derbissimo tra il centro giovane cacciatori Viareggio che torna la vittoria contro Grosseto Viareggio vince 6-4 con vediamo le squadre schierate in campo allora per quello che rimando per il centro giovane cacciatori Torre in porta Puccinelli 2 gol Muzza Tarquini Joachim Mir un gol Luca Lombardi Andrea Gemignani 1 Alex Raffaelli 1 Liam Rosi un gol Andrea Deinite Davide Palla il secondo portiere Niccolò Poli l'allenatore Enzo Pardini Grosseto con Bruno in porta Achilli un gol Salvadori Riccardo un gol Borracelli Rosati Bardini Nerozzi Alfieri due gol Bianchi Masetti è il secondo portiere l'allenatore Matteo Alfieri poi il Forte dei Marmi che schierava Tahiti in porta Barbani Deinite un gol Maggi un gol Petrocchi due Poletti Mirko il secondo portiere Mattia Andreoni ha riposato lo start hit Prato che purtroppo chiude la classifica la nostra squadra del cuore quella che noi seguiamo quest'anno e dunque il turno però non finisce qui perché ci sarà un appiglio al prossimo anno perché la partita Matera Rotelistica Camaiore si disputerà il 20 marzo alle ore 18 Giovinazzo Blue Factor Castiglione il 9 di aprile del 2022 la classifica va con Sanzana 19 8 giocate qui non tutte le hanno giocate tutte Blue Factor Castiglione La Pescaia 15 su 6 giocate Versilia Forte 14 su 7 Roller Matera 12 su 7 Viareggio Centro Giovani Calciatori 12 su 6 Rotelistica Camaiore 9 su 6 Giovinazzo 7 su 7 Grosseto 1 su 7 giocate purtroppo Prato Stattit 54 0 punti su 8 partite auguri e che sia comunque un buon fine d'anno per cui i primi 3 della classifica marcatori Vargas Solatia Juan Alessandro Di Matera 23 gol Ciaconga Ernest Cinquini di Sanzana 16 Federico Burali di Castiglione 16 Matteo Pistelli di Sanzana 13 Mattia Milano di Rotelistica Camaiore 11 a 10 chiudono Gual Rosel Marche e Davide Deinite del Forte Marmi Marmi entrambi con 10 gol all'attivo Coppa Italia di Serie B le ultime notizie la finale di Coppa Italia di Serie B sarà tra Modena e Follonica le gare di andata sono state ribaltate nella seconda partita i Maremmani si sono imposti 5 a 1 controttiene doppietta di Franco Polverini mentre il Serenio è riuscito a pareggiare il gol di svantaggio nei tempi regolamentari il Modena si è poi imposto ai tiri di rigore per 3 a 2 con due gol decisivi di bomber scutece vi lasciamo ve l'avevamo detto il 2022 vedrà all'inizio anche del campionato di Serie B maschile sarà il girone e quello che noi seguiremo si parte il 9 di gennaio le 4 partite Hockey Follonica Castiglione Rotellistica Camaiore Viareggio Hockey Centro Giovani Calciatori Viareggio Rizzo Costruzioni Prato che sarà la seconda squadra del nostro cuore a Prato Infine Puma Sviareggio Orlando Focacceria Forte Dei Marmi è tutto per il nostro ultimo appuntamento di ogni giovedì di Pianeta Occhierotelle 196 grazie a Matteo che mi ha codiovato in regia grazie a Enrico Milano che gli ha dato i suggerimenti Matteo ha le prime giornate di lavoro con noi gli do il benvenuto nella nostra redazione grazie all'ufficio stampa della Federazione italiana Occhierotelle per tutto quanto grazie auguri allo Startit Prato per un migliore 2022 il 2021 va a registro purtroppo zero punti in otto partite andiamo male molto male abbastanza male ma voglio dire c'è tempo per rifarsi auguri a tutti un saluto a tutti i nostri teleascoltatori del canale 196 questa trasmissione il colore rientro il ritorno di tutti i risultati di hockey in Toscana lo facciamo solo noi che sia il più bel fine d'anno possibile buon Natale buon Santo Stefano buon fine d'anno e anche buona Befana e speriamo che nella calza della Befana possiamo si possa trovare tante migliori cose di quelle che purtroppo stiamo vivendo in modo molto amaro e piena di preoccupazioni e di cose che dobbiamo deglutire contro la Costituzione in questo 2020 2021 speriamo che 2022 sia più bello da vivere vi abbraccio vi voglio bene viva Locke e Rotelle linea da regia grazie buon anno a tutti